Icrea è oggi un attore protagonista nel sistema bancario italiano e possiede già tutti i requisiti richiesti dalla normativa per le candidate capogruppo. Dispone infatti di un patrimonio netto su base consolidata di 1,7 miliardi di euro e di un capitale libero di circa 500 milioni. Icrea non necessita così di apporti di capitale da parte delle BCC aderenti. Icrea ha stretto da tanti anni un patto di alleanza con le BCC. La nostra banca è azionista del gruppo Icrea e nel tempo ha contribuito alla graduale crescita del capitale congruo con un mercato che cambia e cresce in complessità. Per la nostra banca questo significa solidità e comporta di non doverci impegnare in alcun aumento di capitale così da poter continuare a destinare il nostro patrimonio a sostegno dello sviluppo dei nostri territori. Con Icrea condividiamo da tempo percorsi e obiettivi mutualistici e di business. Ne abbiamo testato per anni le capacità in termini di servizi e di opportunità che consentono alle banche di credito cooperativo di operare in modo competitivo sullo scenario nazionale in campo internazionale. Le ragioni dell'adesione al gruppo Icrea sono molte e di natura tecnica, industriale e strategica, a cominciare dalla solida patrimonializzazione e dal superamento degli esami a cui la BCE ha già sottoposto Icrea, che dalla Banca Centrale Europea è controllata e vigilata dal 2014 e che ha già strutturato e costruito il piano quinquennale 2016-2020, così da non creare sorprese per il futuro di medio periodo. Le filiali delle BCC venete aderenti a Icrea sono circa 400, rappresentano i due terzi del totale degli sportelli presenti sul nostro territorio. Il numero di banche venete che hanno aderito al gruppo Icrea assicura così una copertura integrale del mercato veneto. Il gruppo bancario cooperativo targato Icrea ha dedicato particolare attenzione ai clienti delle BCC del nord-est, tanto che il supporto alle imprese è stato pari a circa il 20% di quello fornito a livello nazionale e quello alle famiglie ha rappresentato il 28% del totale nazionale. A conferma dell'impegno specifico, a settembre 2016 i nuovi impieghi nel Triveneto erano pari al 35% del totale dei nuovi impieghi di Icrea nel settore corporate, in crescita del 17% rispetto al 2015. Il 51% dei nuovi impieghi è stato destinato al Veneto, il 40% al Friuli Venezia Giulia. L'utilizzo dei fondi distanziati dal Ministero dell'Economia per le piccole e medie imprese, vede protagoniste le 11 banche venete convenzionate con Icrea per quasi 2.000 operazioni e le 4 banche convenzionate in Friuli Venezia Giulia con quasi 700 operazioni. Sono 300 le imprese del Triveneto che hanno beneficiato complessivamente di 62 milioni di euro in finanziamenti ammessi al contributo Sabatini. E ancora nel Triveneto sono state 35 le operazioni di internazionalizzazione supportate da Icrea per un valore complessivo pari a 54 milioni di euro e 2.000 le imprese e clienti delle BCC del Nord-Est incontrate sul tema estero e settore primario. Numeri questi volti a rappresentare non solo il ruolo di servizio ma anche la vocazione ad operare verso il consolidamento della stabilità e dello sviluppo delle BCC. Icrea ci garantisce un supporto su tutti i principali ambiti di attività e assicura ogni giorno l'accesso ai mercati interbancari e finanziari domestici e internazionali. Icrea è il solo centro applicativo in ambito cooperativo abilitato ad operare all'interno del sistema bancario nazionale e fornisce servizi per lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti. La nuova dimensione di gruppo ci permetterà sempre di più di proporre a soci e clienti la nostra personale interpretazione della rivoluzione digitale in atto in tutti i settori. Oggi le banche sono fortemente soggette all'innovazione e alla disintermediazione e il cliente ci chiede un'esperienza omnicanale in cui la filiale rappresenta uno, pur sempre il più importante, fra i molteplici punti di contatto. Ma in questo nuovo mondo vince chi è capace di costruire un network, una rete, in cui sia conveniente entrare. Vale per Airbnb, per Facebook e vale anche per noi. Essere socio e cliente di una BCC non ha valore solo perché ottengo un prodotto finanziario sicuro o un buon servizio personalizzato, ma perché faccio parte di una rete di soci, famiglie e piccole e grandi imprese in cui i vantaggi diretti e indiretti a mia disposizione si ampliano enormemente.